Buonanotte, fratelli, che Dio vi benedica, un'allegria immensa, una felicità grande stare con voi questa notte, o i fratelli che si trovano in altri paesi, già sicuramente è l'alba, e allora a voi un buongiorno e grazie a Dio per la vita, per la sua protezione, grazie al Signore per il suo aiuto, perché Lui sta al nostro lato, perché sappiamo che preghiamo e Lui ci ascolta e compie le sue promesse che ci ha dato attraverso la profezia, i sogni e le visioni, gloria al nome del Signore. Potete sedervi e mi condividevano una testimonianza di una famiglia in Messico che stava passando per un momento difficile economico, adesso nella pandemia, e loro pregarono al Signore perché le risolvesse questo problema, in che modo Dio ha risolto questo problema? Al lato della casa dove vivono c'è un'altra casa dove hanno alberi e hanno un albero di avvocato molto grande, e questo albero da un momento all'altro è iniziato a riempirsi dei rami che hanno preso la direzione verso la casa dei fratelli che vengono in chiesa e si è riempito questo albero di avvocato e quella nella parte che si trovava verso la loro casa, precisamente lì si è riempito ed era la più fruttifera. Loro hanno parlato con il padrone dell'albero, il vicino, il vicino gli ha detto questi avvocato sono per voi quelli che sono dalla parte vostra e testimoniavano loro che erano ammirati dall'opera di Dio perché Dio aveva provveduto all'alimentazione che avevano mangiato tanti avvocato e questo era un modo meraviglioso di alimentarsi perché l'avvocato è un prodotto che contiene tanti nutrienti e così loro si sono sentiti felici e contenti con il Signore, gloria al nome del Signore. Lì c'è l'opera dell'Altissimo, la manifestazione del Signore che sempre ci sorprende per darci le benedizioni, per manifestarsi nel modo più inaudito che molte volte produce allegria, gioia, felicità e un'ammirazione di vedere al modo perfetto come Dio si manifesta, gloria al nome del Signore. Leggiamo nella nostra Bibbia, nel libro di Matteo, capitolo numero 26, verso numero 41, leggiamo nel verso 41, Matteo 26, verso 41, leggiamo solamente questo verso, per onore e gloria del Signore, vegniate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole, Amen. Potete sedervi nuovamente, predichiamo oggi sulle tentazioni, questo è il titolo della predica di oggi e a proposito di quello che abbiamo letto, il Signore Gesù Cristo ha insegnato ai Suoi discepoli che perché non cadessero nella tentazione loro avrebbero dovuto vegnare e pregare, dice qui vegniate e pregate per non cadere in tentazione. Per questo motivo noi la prima cosa che dobbiamo fare e definire la tentazione è una trappola del nemico, del diavolo, con il quale il diavolo vuole che la nostra carne sia attratta e sedotta da questa trappola per commettere peccato davanti al nostro Signore. Ripetiamo? una tentazione è una trappola del diavolo, è una trappola che colloca agli esseri umani e questa trappola è perché noi nella nostra carne ci sentiamo, perché il diavolo conosce qual è la nostra debolezza e colloca la trappola che ci debilita, perché la nostra carne si senta sedotta, imprigionata, da questa trappola che il diavolo sta mettendo la nostra vita e attratta. Cosa succede quando la persona ha un'attrazione o ha una seduzione? Cosa succede? Viene il peccato e con il peccato cosa viene? La distruzione della vita spirituale. La nostra vita spirituale inizia ad affievolirsi, a ridursi, a decrescere. Questo è triste perché perdiamo le benedizioni del Signore, le benedizioni spirituali, le benedizioni materiali e la vita eterna che è la grande promessa che il Signore ci ha fatto. Adesso cosa ha voluto dire il Signore quando ha detto vegnate e pregate? Quello che ha voluto dire è il seguente, se voi state vegnando o svegli nella nostra vita spirituale, attenti nella nostra vita spirituale, state pregando, non sentirete il desiderio e non sentirete l'attrazione di commettere un peccato. Non vi sentite seduti dal peccato perché state vegnando, pregando, leggendo la Bibbia, pregando, lodando il Signore, vedendo gli studi biblici, le prediche, le meditazioni e state analizzando la Bibbia, leggendo la Bibbia, pregando e vivendo in funzione di Dio, coltivando la vita spirituale, dando il primo posto al Signore. Quando una persona fa questo non si sente sedotto e ne è attratto dal commettere il peccato. Quando il diavolo colloca la tentazione, la trappola, la persona non è sedotta, non è attratta dalla tentazione perché la persona sta coltivando la sua vita spirituale. Per questo dice che lo spirito è forte e la carne è debole, perché quando la persona sta leggendo la Bibbia, sta cercando Dio, sta cercando tempo per il Signore, sta pensando a Dio, sta meditando in Dio, la persona è forte nel suo spirito e anche se la carne è attratta dal peccato, la persona nella parte spirituale riesce a dominare. Però quando qualcuno non si sta prendendo cura della sua vita spirituale, ma sta dormendo, la persona non legge la Bibbia, non prega, non loda e non è interessato per acquisire conoscenza. La persona è attratta dal peccato e è quasi sicuro che la persona cade nella tentazione. E quindi da noi dipende in larga parte cosa facciamo davanti alle tentazioni, perché il diavolo è sempre pronto a collocare tentazioni, a collocare trappole, dipende da quello che noi facciamo. Se noi siamo attenti e ci stiamo prendendo cura della nostra vita spirituale, non cadiamo in queste tentazioni e quando vengono le tentazioni noi siamo forti e non ci sentiamo attratti, né abbiamo questi cattivi pensieri né questa attrazione per peccare. Però se stiamo facendo il contrario facilmente iniziamo a sentire il desiderio, l'attrazione della carne, perché la carne lo motiva a peccare. Vediamo nella Bibbia esempi di persone che sono caduti nella tentazione e leggiamo inizialmente in Genesi nel capitolo numero 3, nel verso numero 6, sono caduti nella tentazione del diavolo nella trappola del diavolo. Una trappola che ha collocato il diavolo Adamo e Eva quando Dio le ha detto di non mangiare l'albero del bene e del male. Questo è stato un ordine del Signore. Il diavolo immediatamente è venuto e ha collocato una trappola e questa trappola in che cosa è consistito? Che ha detto alla donna nel verso numero 4, Genesi 3, 4. Allora il serpente disse alla donna voi non morirete affatto ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio conoscendo il bene e il male. La donna si è sentita attratta, la carne si è sentita attratta da questo albero perché vedeva che era buono da mangiare, piacevole agli occhi e per questo motivo la donna ha compiuto questo passo di commettere di mangiare di questo frutto ed è caduta nella tentazione. Dice nel verso 6 la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Dice in verso della Bibbia la concupiscenza degli occhi e della vita, ossia il desiderio della carne e la concupiscenza, ci porta ad essere attratti dal peccato e qui il peccato era mangiare dell'albero questo frutto che non avrebbero dovuto mangiare secondo l'ordine del Signore. Questo è un modo dello stesso principio dell'essere umano di cadere della tentazione davanti a Dio. Nel libro di Primo dei Re, capitolo numero 11, cos'è successo a Salomone? Primo libro dei Re, capitolo numero 11, a Salomone è successo qualcosa che Dio aveva già in Deuteronomio detto, che quando avessero avuto un re questo re non avrebbe dovuto avere tante donne perché queste donne potevano inclinare il cuore, potevano volgere il re e trascinare il re all'idolatria che si dimenticasse di Dio. Nonostante questo era il comandamento del Signore e per questo il diavolo colloca la trappola perché la persona si sente attratta da qualcosa, la sua concupiscenza, la sua carne cada e rompa il comandamento del Signore. nel caso di Salomone a lui si è dimenticato il comandamento e non l'ha tenuto presente e ha avuto tante ricchezze ed è stato attratto da tante donne di diversi popoli e le amate, dice la bimbia che ha avuto tante donne e si è sentito attratto da questa situazione e cos'è successo? Che tutte queste donne appartenevano a diversi popoli, a diverse nazioni vicine, tutte queste nazioni avevano dei diversi ed erano idolatri e queste donne lo hanno influenzato e hanno sviato il loro cuore. Lui è caduto nel peccato dell'idolatria, non è stato perfetto in questa parte davanti al Signore perché è caduto in questa tentazione e dice la Bibbia nel primo libro dei re, capitolo numero 11 verso 1, ma il re Salomone oltre alla figlia del faraone amò molte donne straniere, le moabite, le ammonite, le idumè, le sidonie e le itte. Dice la Bibbia nel verso, parla del numero di donne nel verso 2 appartenenti ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele voi non vi unirete in matrimonio con loro né essi con voi perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei, ma Salomone si unì a tale donne per amore, ha sentito un'attrazione per questo e dice nel verso 4, così quando Salomone fu vecchio le sue moglie fecero volgere il suo cuore verso altri dei, il suo cuore non appartenne interamente all'Eterno il suo Dio come il cuore di Davide suo padre caduto nell'idolatria. Adesso vediamo cosa è successo a Davide. Nel primo libro di cronache capitolo numero 21, primo libro di cronache capitolo numero 21 Davide sapeva che quando lui sarebbe andato alla battaglia non aveva necessità di censire il popolo di guardare quanti soldati egli aveva perché chi avrebbe lottato e accompagnato nella battaglia sarebbe stato il Signore e non avrebbe dovuto contare il suo popolo solamente confidare in Dio e andare alla battaglia, però Davide si è fatto trascinare e stigare dal diavolo, ricordate che la tentazione è una trappola che il diavolo colloca. Questo la Bibbia lo insegna nel libro di Giacomo capitolo numero 1, lì la Bibbia insegna che le tentazioni non vengono da Dio ma che le tentazioni vengono dal diavolo, sono trappole e in queste trappole i figli di Dio e gli esseri umani generalmente sono provate, le tentazioni sono prove e sono trappole del diavolo, non di Dio perché Dio non può fare del male a nessuno e in queste trappole la persona è attratta e sedotta dal diavolo perché è qualcosa di attraente, è qualcosa che richiama gli occhi e nella debolezza, nella concupiscenza che c'è nella carne e che la persona allora non può dire che Dio lo ha tentato ma che è stata la sua stessa carne che è stata tentata, esticata e sedotta dal diavolo. Il diavolo colloca la trappola però la carne si fa trasportare, si fa attrarre e alla persona si dimentica quello che Dio gli ha parlato e cade nel peccato, cade nella tentazione. Cos'è successo in questo caso a Davide? che Davide è stato incitato dal diavolo e è stato cioè tentato dal diavolo che gli ha collocato una trappola e Davide ha voluto contare il popolo e questo è stato un peccato davanti al Signore. Primo libro di cronaca 21.1 ora Satana si levò contro Israele e sticò Davide a fare il censimento di censimento di Israele e Davide disse a Joab conta fai il censimento del popolo e lui rispose no non lo fare e Davide si contiamo il popolo censiamo il popolo e lui è caduto in questa trappola nella trappola che è stato non confinare nel Signore perché lui stava per partecipare a una battaglia con tanti popoli e lui voleva sapere quanti soldati avesse e la trappola è stata questa che lui voleva sentirsi sicuro umanamente voleva sapere il numero dei suoi soldati e non ha confidato nel Signore. La trappola era dire io ho un esercito di tante persone questa era la trappola sapere di avere un un grande esercito guardiamo l'esempio dell'Apostolo Pietro Atti degli Apostoli capitolo numero 5 cos'è successo all'Apostolo Pietro che l'Apostolo Pietro ha avuto una situazione con Anania e Safina che loro avevano venduto un potere e avevano detto all'Apostolo che quando avessero venduto questo potere loro avrebbero portato parte di questa alla Chiesa perché la potessero destinare a tutti i lavori di evangelizzazione. Cos'è successo con Anania e Safira che loro hanno venduto la proprietà e quando hanno avuto il denaro tra le mani il pagamento di questa proprietà loro sono caduti nella tentazione quale tentazione la trappola che il diavolo ha collocato nella quale la loro carne ha visto che era tanto denaro e hanno detto no diciamo una bugia diciamo che è stato abbiamo ricavato di meno e questo è il modo con cui sono caduti nella tentazione e così hanno hanno avuto una distruzione nella loro vita materiale e spirituale è venuto un castigo una riprensione grande da parte del Signore questo lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli capitolo numero 5 verso 3 ma Pietro disse Anania perché a Satana mi riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo perché ti sei fatto sedurre e hai mentito allo Spirito Santo e hai sottratto una parte del prezzo del prezzo del prezzo del potere non avresti dovuto commettere questo peccato non cadere in questa tentazione e anche la Bibbia insegna nel primo libro di Tessalonicense Tessalonicense capitolo numero 3 riguardo quello che stava succedendo con i credenti che l'Apostolo Paolo era preoccupato per la Chiesa e lui sempre si faceva la domanda sarà che la Chiesa è forte per esistere sopportare le tentazioni del diavolo perché fratelli il diavolo tutto il tempo è come un leone ruggente cercando chi divorare noi allora dobbiamo sapere che nella vita pratica è che il diavolo sta guardando il momento in cui colloca una trappola che può essere come quella che abbiamo detto oppure un incidente oppure una malattia o adesso che siamo nella pandemia può arrivare una malattia in qualsiasi momento può arrivare un contagio e in questo momento sono trappole che il nemico colloca e prove grandi e le persone in questi momenti non si possono far trasportare dalla loro carne dal dolore quando la Bibbia dice che la carne è debole è questo che la persona si sente malata si sente mentre non sta cercando il Signore non sta vegliando la carne diventa triste e melanconica che Dio l'ha abbandonato che si sente deluso dal Signore e la persona anche se una persona cara si si ammala o se Dio determina che una persona perde la vita la persona arriva a dire me ne vado dalla Chiesa se la persona non sta vegneando che non comprende che alla fine è la volontà di Dio e che Dio è il padrone della vita però il diavolo può collocare trappole anche se noi stiamo in Chiesa noi se non siamo afferrati al Signore se non stiamo pregando non stiamo vegliando e dando il primo posto al Signore e siamo lontani dal Signore perdendo tanto tempo siamo nel materialismo noi di fronte a una situazione di questa una persona può perfettamente dire me ne vado dalla Chiesa non credo in Dio Dio non esiste è una bugia è tutto falso in questo modo si può manifestare la tentazione e per questo motivo l'Apostolo Paolo sempre era preoccupato sarà che voi sopportate la tentazione quando il diavolo viene e colloca la trappola questa era la domanda che lui si faceva e diceva sì sarà che trovo fene trovo credenti che credono che Dio esiste che Dio è Spirito oppure tornano indietro e vanno via dalla Chiesa e sono infedeli questa era la grande domanda che si faceva all'Apostolo Paolo nel primo libro dei Tessalonicensi capitolo numero 3 verso 5 per questa ragione non potendo più resistere io pure mandai ad informarvi sulla vostra fede io voglio sapere se voi siete siete nella fede se voi siete saldi nella fede che talora il tentatore non vi avesse tentate questo è è il preludio del peccato perché voi quando iniziate a sentire il desiderio di commettere un peccato voi dite già sono nella tentazione il diavolo mi sta tentando e dire perché mi sto sentendo attratto da questo per questo una persona che si sente attratta dalla pornografia è perché non sta leggendo la Bibbia non sta pregando se uno inizia a sentire il desiderio di vedere la pornografia o la sta vedendo perché questa persona non sta pensando in Dio non sta leggendo la Bibbia non sta pregando non sta velando non sta trovando tempo per il Signore allora voi stessi e tutti noi dobbiamo analizzare se sentiamo attrazione per queste cose voi dovete dire no io sto camminando male nel Signore il diavolo mi sta mettendo una tentazione e quando uno sente questa attrazione per commettere il peccato perché già il diavolo lo ha messo nella tentazione e vi vuol far cadere quando commetteamo il peccato noi cadiamo nella tentazione e se uno si sente solamente attratto sedotto dalla dal e avvicinandosi a questo voi dovete dire no no il diavolo mi ha messo nella tentazione io non faccio questo il diavolo mi ha messo nella tentazione Signore proteggimi perdonami se io sto in questo è perché mi sto dimenticando di te non sto trovando il tempo e non sto pregando e sto perdendo il tempo perché io se stessi cercandoti non sarei sentendo l'attrazione per la pornografia per esempio e qui c'era il desiderio di uscire dalla chiesa dire no che Dio non esiste e dice qui per informarvi sulla vostra fede che talora il tentatore non vi avesse tentato la vostra fatica non fosse riuscita vana e lui si è reso conto che loro erano fermi nella dottrina del Signore che è venuta la scarsità economica si è perso l'impiego i fratelli che non avevano da mangiare però loro sono stati fermi confidando nel Signore e Dio l'ha risolto con l'avvocato e ha provveduto alle loro necessità però ci deve essere questa costanza di credere e di mantenerci nella fede così è come l'Apostolo Paolo insegnava ai Tessalonicesi vediamo adesso esempio di fronte alla tentazione abbiamo due opzioni quando noi siamo tentati e abbiamo la prima opzione scappare fuggire dalla tentazione l'altra opzione viene la tentazione e voi dovete riprendere o rifiutare la tentazione e richiamare l'attenzione a chi sta promuovendo la tentazione la persona lo strumento del maligno che sta promuovendo la tentazione alla vostra vita nel libro di Genesi capitolo numero 39 insegna la Bibbia che Giuseppe è scappato dalle mani di una donna che voleva sedurlo che voleva attrarlo e lui era una persona che era molto ferma nella sua vita spirituale saldo nella sua vita spirituale per questo è fuggito dalle mani di questa donna e dice la Bibbia che letteralmente lo stava forzando però lui è fuggito dice nel verso 12 allora ella lo afferrò per la veste e gli disse coricati con me ma egli le lasciò in mano la sua veste fuggì lì c'è la parola fuggì dalla tentazione e questo è un esempio meraviglioso di quello che noi dobbiamo fare fuggire dalla tentazione esempio se una persona nel lavoro nell'impiego era assediata un fratello della chiesa dice che una donna padrone dell'impresa lo cercava per fargli proposte e lui era sposato e lui la rifiutava però lei era difficile la situazione che ha chiesto un trasferimento nell'impresa e allora è andato un giorno e dalla da sua moglie dopo che le avevano rifiutato il trasferimento le ha detto io rinuncio tu hai un lavoro e io rinuncio mentre io cerco un altro lavoro tu sostieni la famiglia e questo è fuggire è fuggire ho un fratello che era nell'università una donna si è trovato nella stessa situazione e lui ha detto no io preferisco perché non c'è stato modo di risolverlo preferisco rinunciare all'università e ha parlato con con sua moglie e cercò posto in un'altra università è fuggito non c'era altra opzione e lui doveva preservare il suo matrimonio e ha risolto il problema fuggendo questo è stato il modo di come ha risolto le cose vediamo adesso un altro esempio nel primo libro di Samuele capitolo numero 26 primo libro di Samuele capitolo numero 26 dice la Bibbia un'altra situazione è successo con un matrimonio era la sposa loro sono andati a vivere in un hotel e in questo hotel le hanno assegnato la stanza e un uomo ha iniziato ad assediare la sorella della chiesa e non la lasciava in pace cercandola facendo la vita impossibile e lei cercava di scappare da questa persona però questa persona tutto il tempo stava perseguendola molestandola disturbandola e la sorella commenta che ha avuto problemi nel suo matrimonio e come c'è stata la tentazione perché c'era il problema del matrimonio e questa persona iniziò a insistere a cercare un'amicizia con lei allora la sorella ha visto che poteva conversare con lui e quando si è resa conto si è detta io che sto facendo questo non è corretto perché non è normale che il problema del matrimonio è apparso un altro uomo e allora lei ha detto al marito andiamo via da qua da questa stanza e cerchiamo dove vivere da un'altra parte è fuggito ha fuggito se voi vedete che tutto coincide che il matrimonio non funziona che è apparso un uomo una donna c'è difficoltà nel matrimonio e che la persona è molto comprensiva le propone di prendere un caffè che hanno gusti simili che persone che pensano allo stesso modo allora tante cose che iniziano a sorgere e la persona inizia a sperimentare un'attrazione per questa situazione voi dovete reagire e dire perché mi sta succedendo questa non mi ero reso conto prima invece di pregare il Signore che mi risolvesse il problema fugo e se non posso fare di più vado via dal lavoro trovo un altro posto trovo un'altra università e cerco un altro luogo dove vivere però questo è quello che si chiama scappare o fuggire nel primo libro di Samuele capitolo numero 26 la persecuzione che Saúl aveva da Davide è venuta la tentazione per Davide perché il diavolo ha posto tutto perché Davide potesse togliere la vita a Saúl e Davide aveva la tentazione di togliere la vita a Saúl e sentire sollievo però Davide non cade nella tentazione un soldato gli ha detto posso ucciderlo no perché è l'unto del Signore è l'unto del Signore intoccabile e dice anche che hanno commesso un errore perché hanno tolto una parte del manto del re e Davide ha sentito che aveva commesso un errore grave però Davide per Davide era chiaro che contro l'unto del Signore non poteva fare nullo perché era una trappola che il nemico aveva posto la sua vita nel primo libro di Samuele capitolo numero 26 verso 7 fino al 9 dice nel 9 ma Davide disse a Abisaí non ucciderlo chi infatti potrebbe stendere la mano contro l'unto dell'eterno senza rendersi colpevole scappiamo andiamo via io confido nel Signore però lui non ha risolto il problema che era l'attrazione della carne risolvere rapidamente questo se no la parte spirituale che sia Dio che dirimesse la situazione che l'unto del Signore era intoccabile in prima lettera ai Corinzi capitolo numero 7 verso 5 un esempio del matrimonio che la la coppia si può separare per un tempo per dedicarsi alla preghiera però che questo non può essere per largo tempo se no si deve riunire la coppia e compiere con il dovere coniugale perché il diavolo non venga e li tenti l'apostolo Paolo lo dice ed è un modo di fuggire dalla tentazione nella prima lettera ai Corinzi 7 verso 5 non privatevi l'uno dell'altro se non di comune accordo per un tempo per dedicarvi al digiuno alla preghiera poi di nuovo tornate a stare insieme affinché Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi e quindi scappare dalla tentazione e riunirvi nuovamente come coppia perché questo è il modo se no il diavolo si approfitta per collocare un trappolo un adulterio e questo porta ad una distruzione un grande peccato davanti al Signore adesso vediamo alcuni esempi per riprendere o rifiutare la tentazione con la persona che lo sta tentando il primo esempio con il Signore Gesù Cristo quando il diavolo è venuto e l'ha collocato trappole nel al Signore il diavolo è venuto e quando l'ha visto con fame gli ha detto converti queste pietre in pane e così ti puoi alimentare e gli ha collocato questa trappola al Signore e il Signore poteva farlo poteva convertire trasformare le pietre in pane perché lui stava sentendo fame questa è stata la tentazione sapeva che non poteva agire così comportarsi come un essere umano e dice di non solo pane vive l'uomo non è rimasto zitto e lo ha corretto perché di ogni parola che procede dalla bocca di Dio e allora ha rifiutato ha rifiutato la tentazione del diavolo è un insegnamento molto bello perché questo è quello che dobbiamo fare che dobbiamo rispondere e insegnare alla persona già dopo il diavolo se tu sei il figlio di Dio lanciati da qui perché è scritto che manderà gli angeli perché ti aiutino il Signore gli rispose non tentare il Signore Dio tuo sempre rispondeva con la dottrina e questo è il modo con cui noi dobbiamo riprendere il diavolo quando la persona si sta comportando male nei matrimoni oggi si vive un problema qual è il problema il problema è che per esempio la sposa o lo sposo hanno una formazione professionale uno c'è là e l'altro no uno guadagna di più dell'altro allora risulta che la persona che non è spirituale cade nella tentazione di di paragonarsi alla persona tu non vali nulla perché non sei andato all'università tu guadagni meno di me e non contribuisci qui in casa io guadagno di più io qui definisco le cose perché tu stai vivendo di me allora la persona che fa questo è perché non ha spiritualità una persona che non sta pregando non sta vigliando la sua vita spirituale non ha compreso le cose del Signore non sa cos'è l'amore non sa cos'è il rispetto non sa cos'è un matrimonio non sa che sta offendendo la persona non sa cos'è amare la il prossimo perché lo sta umiliando e sta cadendo in questa tentazione di sentirsi orgoglioso superiore perché ha studiato perché guadagna di più e questo fenomeno è un peccato grave e la persona che sta facendo questo uomo o donna sta commettendo un gravissimo peccato davanti al Signore perché allo sposo alla sposa bisogna avvalorarle e ho ascoltato anche spose che hanno fatto questo con gli sposi o li umilia e o io guadagno più di te non puoi parlare anche se il marito lavora o sta cercando lavoro e allora la persona è caduta nella tentazione per il suo orgoglio di entrare nella discussione di non rispettare a valorare la coppia e cade nella tentazione commette un grave peccato davanti al Signore e lo sposo cosa cosa deve rispondere perché mi parli così perché dove stai praticando l'amore non hai diritto di parlarmi in questo modo perché io sono tuo marito e tu non devi umiliarmi in questo modo perché questo non è amore e non dobbiamo entrare in discussione però insegnare alla persona e questo è rifiutare un cattivo comportamento ed è il modo quando uno cade in tentazione il modo in cui dobbiamo rispondere perché il diavolo vuole che ci inizi una contesa tremenda e allora finisce tutto risolviamo il problema divorziandoci no non si risolve così vediamo cosa dice la Bibbia dov'è l'amore al prossimo dov'è il rispetto così si risolve il problema e allora questo è quello che dobbiamo fare nel libro di Matteo capitolo numero 16 troviamo quello che è successo al Signore Gesù Cristo con l'Apostolo Pietro che l'Apostolo Pietro ha detto al Signore Gesù Cristo che avesse compassione di se stesso Matteo 16 22 allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo Signore Dio te ne liberi questo non ti avverrà mai e allora lui gli rispose vattene via Satana oggi non lo facciamo così però lo possiamo possiamo scoprire che una persona che è posseduta dal diavolo gli fa una proposta una proposta indecente e questo si applica per esempio per un furto per tutti i peccati e dice alla persona nell'impiego facciamo un furto qui abbiamo tutta la possibilità di rubare all'impresa e allora il credente che viene alla Chiesa dice alla persona perché mi proponi questo perché dici questo cosa sta succedendo perché non mi rispetti come mi mi proponi questo pentiti davanti a Dio tu che sei andato in Chiesa uno o due volte chiedi perdono al Signore puoi pregare al Signore che provveda al denaro di cui hai bisogno e questo è il modo come si risolve la tentazione la tentazione di rubare e noi non la risolviamo in questa situazione dicendo me ne vado dall'impresa no dice alla persona mi rispetti e devi rispettare Dio questo è riprendere la persona e insegnare questo è quello che dobbiamo fare in Giobbe capitolo numero due troviamo che Giobbe ha avuto una situazione molto dura con la sposa perché la sposa quando a Giobbe gli è venuta tutta questa tragedia e Giobbe ha perso le proprietà perché il diavolo gli ha fatto tutto questo e ha posto tutte queste trappole l'ha posto in tentazione che rinegasse di fronte a Dio però se non bastasse la sposa è venuta e gli ha detto maledici Dio e muori e muori invece di appoggiarlo gli ha detto così e cosa ha detto Giobbe Giobbe non si è eguagliato a lei dice nel verso 9 dice il verso 10 poiché a te ti manca conoscenza cosa riceveremo da Dio il bene e il male non lo riceveremo l'ha fatta stare zitta perché era il diavolo che stava parlando per lei perché invece di consolarlo appoggiarlo e aiutarlo lei invece di dargli una mano lo stava offendendo lo stava umiliando ed è stato bello come come Giobbe le ha parlato dicendo tu parli come parlerebbe una donna insensata e di fronte alla tentazione noi possiamo rispondere così e coscienti quando il diavolo ci sta usando perché uno si pone altezzoso maleducato tratta male i figli o la sposa uno dice il diavolo mi sta usando per mettere tentazione agli altri perché anche gli altri diventino iracondi con me e qui tutti qui pecchiamo signore perdonami mi sta mancando preghiera perché uno deve identificare quando sta diventando strumento del diavolo quando altri stanno diventando strumenti del diavolo e terminiamo nel secondo libro di Pietro seconda lettera di Pietro capitolo numero due che se noi siamo pi o pietosi che viene dalla giustezia se noi siamo pi nella nostra vita Dio ci aiuta perché noi non cadiamo nella tentazione seconda lettera di Pietro capitolo due verso nove il Signore sa liberare i pi dalla prova che se noi stiamo cercando Dio se noi amiamo Dio e stiamo dando il primo posto al Signore e diamo tempo al Signore troviamo tempo da dedicare al Signore noi siamo pi Dio ci sta aiutando se sempre preghiamo al Signore diciamo al Signore Signore proteggimi dalla tentazione dobbiamo dirglielo giornalmente proteggimi dalla tentazione che non entriamo in tentazione non cadiamo nella tentazione e dire questo liberaci dal male e questo ci aiuta a non peccare vi invito in piedi preghiamo d'altissimo benedetto Padre Celestiale ti ringraziamo per il tuo amore infinito ti amiamo con tutte le forze ti chiediamo il tuo aiuto perché comprendiamo bene questa parte di non essere tentati e non cadere nella tentazione ti chiediamo che sia tu liberandoci dalla tentazione tutti i giorni della nostra vita che noi ti cerchiamo con tanto amore perché così Signore non siamo attratti dal diavolo e non cadiamo nelle trappole del nemico che tu o Dio della gloria benedici la Chiesa nelle nazioni la Chiesa in ogni cuore in ogni persona che sta venendo nella Chiesa del Signore perché ti amino ti cerchino e si interessino con sincerità a te che comincino a praticare gli insegnamenti a imparare di te a cercare della tua presenza perché tu ti manifesti in tutti che tu ci porti avanti Signore e ci liberi liberaci dagli attacchi del nemico dalle tentazioni dalle trappole dai pericoli di morte dalle malattie dalle infermità dagli accidenti dagli incidenti dalle scarsità economiche e vieni alla nostra vita con lo Spirito Santo doni meravigliosi del Consolatore il potere dall'alto l'autorità un profondo timore a te amore al Signore un rispetto un'ammirazione un desiderio di fare la tua volontà e di compiacerti stai con la nostra sorella Maria Luisa proteggila benedicendola aiutandola proteggendola e dandole la salute meravigliosa e tanti anni di vita perché ogni giorno di più possiamo bere di questa fonte meravigliosa che posso attraverso la sua leadership che tu Signore sai in ogni vita in ogni cuore aiutaci e che ascolti le nostre preghiere le nostre suppliche benedici la nostra famiglia tutti quelli che siamo uniti nella preghiera aiutaci nella pandemia e che possiamo servirti e raggiungere ogni giorno la perfezione e la vita eterna nel nome del nostro Signore Gesù Cristo amen gloria al Signore cantiamo il coro numero 136 Cristo è la mia forza grazie Signore gloria a te alleluia benedetto il nome del Signore ti amiamo ti adoriamo e ti ingrandiamo per te viviamo Signore gloria a Dio gloria al nostro Dio gloria al nome del Signore benedetto il Re della Gloria benedetto l'Altissimo l'Altissimo gloria Cristo è mi forte in la tentazione me consuela in la dura afliczione e in cada lucha con il tentatore con il ser l'Altissimo E in cada lucha con il tentatore, con il ser e paz, salgo ma che vencedor, Cristo è mi forte in la tentazione. Grazie.